Ciao a tutte ragazze e bentornate nel mio canale oggi un nuovo video e questo qua è un video giveaway come appunto avrete letto dal titolo ho deciso di farvi un bel regalo e sono molto contenta di questo giveaway questo è il secondo che faccio sul mio canale il primo era riguardante i prodotti e invece questo qua è un giveaway MAC perché ho deciso di regalarvi un rossetto MAC che però non vedrete adesso fisicamente perché in pratica la vincitrice di questo giveaway mi scriverà poi in privato oltre ai suoi dati mi scriverà il rossetto che preferisce così che io glielo mandi direttamente a casa questo fatto mi piace molto perché io posso prendere un rossetto qualsiasi e 3000 persone possono averlo invece ho deciso di dare libero spazio alla scelta del colore così che possiate scegliere appunto il colore che vi piace ma senza perdermi in ulteriori chiacchiere vi spiego le regole per partecipare a questo giveaway allora le regole sono semplicissimi ossia essere iscritti al mio canale se non siete ancora iscritti mi raccomando cliccate il pulsante qua sotto iscriviti mettere mi piace a questo video lasciare un solo commento quindi non accetterò partecipazioni che abbiano più di un commento e la quarta regola è appunto con il commento voglio sapere appunto che rossetto volete e come vorreste abbinarlo con un make up il giveaway verrà chiuso il 18 febbraio che dovrebbe essere di domenica verso le 22 e sarò io poi a scegliere la persona che vincerà questo giveaway sempre sotto questo video troverete il nome della vincitrice la quale ha 4 giorni di tempo per contattarmi e darmi tutti i suoi dati indirizzo eccetera altrimenti poi provvederò a scegliere un'altra un'altra vincitrice spero di essere stata abbastanza abbastanza chiara detto questo auguro buona fortuna a tutti voi vi mando un grosso bacio vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao